Buongiorno amici, abbiamo per voi un video straordinario, si tratta della rielaborazione di un brano del Festival di Sanremo di quest'anno, 2023, che abbiamo adattato ad un episodio capitato ad un nostro amico che ha trovato il ristorante chiuso. Questo nostro amico ama tutti gli anni fare parecchi chilometri durante l'estate, arriva in questo paese che si trova in montagna dopo aver camminato tantissimo, arriva stanco e affamato e di solito trova quello che ha da lui amato sempre aperto. Quest'anno l'ha trovato chiuso e questo non gli è piaciuto molto. Andiamo con il video e godiamocelo insieme. Ciao amici, ciao a tutti, ciao. **Ó只 nota l'ora kau** dico oh, fame se te sto spates venire qui mi appoggio alle tavole. So che si può entrare da qui, tra le finestre del tetto, mi infilo dentro il caminetto. Avrebbero potuto aspettare almeno sei mesi, trofeo Vanoni, tenerci aperto il locale per tutta l'estate, vino e cibo, sono entrato giusto per sfamarmi, niente da fare, potrei ammassarmi. C'è rimasto solo un po' s'acenere, mi sento un nodo alla gola, nessuno più mi consola, c'è rimasto solo un po' s'acenere, avrei sperato due uova, le chiedo a lei, signora, magari in camicia.